Siamo veramente onorati di poter ospitare a settembre a Roma, nel Foritalico, l'edizione della World Cup della FIFA 7, quindi per noi è un grande piacere, un grande onore, stiamo lavorando con tutto il comitato organizzatore della FIFA 7 per rendere questo appuntamento un appuntamento unico, incredibile e speriamo fantastico per tutti gli appassionati sportivi del calcio 7.